sapete famiglia io ho imparato che tutto si può risolvere nella preghiera quanti diciamo amen questa fede è nata talmente talmente dentro al mio cuore che io non vedo è impossibile niente per me niente è impossibile è impossibile se non ho pregato è impossibile se non mi sono inginocchiato è impossibile se non ho dato il tempo che la bibbia mi dice che io devo dare perché una situazione si possa risolvere quanti mi dicono amen guardate che cosa dice qui voglio iniziare con luca capitolo 8 versetto 38 e 39 l'endemoniato di gadareno voi lo ricordate l'endemoniato gadareno l'indemoniato indemoniato gadareno e voglio leggere solo gli ultimi versetti della trasformazione di un uomo di quello che è successo metto qua stop così voi mi sentite bene stiamo meglio no stiamo più tranquilli questa settimana nel nome di gesù metteremo a posto il frigorifero questo che abbiamo qua che non so per quale motivo non tira tutto il vento che deve tirare però dovremo essere dei ghiaccioli qua dentro invece siamo dei ghiaccioli però al sole e quindi guardate che cosa dice qua 38 e 39 intanto l'uomo da cui erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui con chi dite con me con gesù lo pregava dopo essere stato liberato lo pregava di poter restare con lui e io meditavo quanto spesso quando dio fa un'opera nella nostra vita invece di pregare allo spirito santo che rimanga nel nostro intorno molto spesso dimentichiamo l'opera dello spirito santo non so se un pochino di acqua ancora non ci siamo capiti facciamo i segni qua allora che è successo lo pregava di poter restare con lui ma gesù lo congedò dicendo ritorna a casa tua e racconta quali grandi cose dio ha fatto per te ed egli se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che il signore aveva fatto per lui il titolo del messaggio di oggi è superando superando il limite della pressione grazie tanto grazie gentilissimo superando il limite della pressione quanti di noi abbiamo sofferto di pressione intendo dire di una pressione nella nostra vita di noi spesso viviamo conviviamo con dei momenti di pressione dove non sappiamo da dove arrivano come arrivano a volte sappiamo da dove arrivano però conosciamo la conseguenza il perché oggi il signore ci ministrerà riguardo a che cosa è una pressione se è una pressione che viene da parte del signore per formare il nostro cuore o se è una conseguenza alle nostre azioni perché molto spesso le pressioni si creano dietro alle nostre decisioni in questo caso a me il signore mi ministrava come questo uomo che è stato oppreso dite con me oppreso sotto una grande pressione riceve libertà però accorgendosi che lui aveva ricevuto una grande libertà vuole rimanere in quella libertà quanti mi dicono a me e riconosce riconosce che non per un momento di libertà lui ha assicurata non pressione non so se rendo chiara l'idea la sua tranquillità per un momento dite per un momento perché lo dico noi abbiamo fatto diverse dirette nel tempo che abbiamo siamo stati adesso in vacanza per quale motivo stavamo insegnando riguardante al riposo perché molte persone una volta ottenuto qualcosa entrano come in un riposo della relazione con dio l'indemoniato questo uomo se ne era accorto che lui non si poteva dare un riposo quanti mi dicono a me non si poteva dare un riposo per quale motivo dite con me perché la carne è debole lo dice la scrittura allora tutta l'accumulazione di preghiera di relazione col signore che tu puoi fare in un anno può venire a meno in una settimana in una settimana non hai bisogno sì anche in un giorno però diciamo diamo un pochettino di come dite non te ne accorgi diciamo una settimana dopo tu dici che è successo perché sento questa pressione che è successo qua che è successo là noi abbiamo iniziato l'anno scorso con cieli aperti al mattino vi ricordate pregando ogni mattina alle sei e mezza senza che ci fosse ancora il lockdown e la situazione del virus abbiamo iniziato ogni mattina perché dio aveva messo nel nostro cuore di iniziare già ad ottobre a pregare alle sei e mezza quando siamo arrivati al periodo del covid e quindi tutti si rinchiudono nella casa il mese di marzo già noi abbiamo accumulato dite con me accumulare avevamo accumulato preghiera avevamo accumulato relazione con lo spirito santo avevamo accumulato sacrificio sacrificare il nostro tempo al signore abbiamo iniziato ad ottobre ad ottobre abbiamo fatto una settimana tre giorni no due giorni sì quattro giorni no due giorni sì novembre abbiamo iniziato tutta la settimana un giorno no cinque giorni sì un altro però sapete che stava succedendo ci stavamo desintossicando si può dire piano piano noi ci stavamo desintossicando di una non relazione con dio e piano piano il signore iniziava a riempire i nostri contenitori e ce ne accorgevamo sì o no amore quando pregavamo una settimana e iniziavamo il giorno lunedì senza pregare perché magari la domenica eravamo ritornati da qualche altra parte perché eravamo stanchi o quello che sia ce ne accorgevamo in quei due giorni che cosa è successo da dove viene questa pressione e dio ci parlava e ci diceva perché tu non conosci l'ambiente spirituale ma io quando tu preghi al mattino quando tu rilasci la mia parola ti sto proteggendo quanti mi dicono a me molte persone non capiscono da dove provengono le proprie pressioni e concludendo al messaggio di l'indemoniato di gadareno questo uomo il signore le dice ritorna a casa tua e racconta dite con me racconta per quale motivo io devo raccontare quello che il signore ha fatto con me chi ha una luce di intendimento mi potrebbe dire per quale motivo io dovrei continuare continuamente a parlare di quello che dio ha fatto con me per testimoniare l'opera di dio qualche altra cosa per mantenerlo viva nella mia memoria qualcun altro io vi posso dire per non cambiare l'acqua dolce in acqua salata perché quando non parliamo benedizione purtroppo parliamo qualche altra cosa e ci mettiamo a parlare di una cosa ci mettiamo a parlare un'altra cosa ci mettiamo a parlare e lì succede nella nostra vita che quando non non ho continuità di raccontare le benedizioni che dio ha fatto nella mia vita inizio a parlare parole che non sono in conformità al regno di cieli parlo male di un pastore parlo male di un amico parlo male di un familiare parlo male della casa del signore parlo male del lavoro e le porte si iniziano a chiudere allora il signore gesù gli dice io non ti posso dire di venire con me o permettere non lo sappiamo per quale motivo il signore lo mandò lo ha concedato dice lo gli dice no non mi seguire sicuramente non era parte dei suoi discepoli non lo aveva scelto come i suoi discepoli però gli da un'istruzione dite con me un'istruzione io direi un'istruzione a vita eterna fratelli quanto spesso io ho visto porte aprirsi e quanto spesso ho visto le porte chiudersi velocissimamente per quale motivo perché ottenere una benedizione del regno dei cieli comporta la parola e non me la ricordo mai ah mi la sono ricordata dite con me disciplina si dice così o disciplina 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 che è una cosa che non abbiamo una disciplina abbiamo molta disciplina nel guardare la tv la telenovela l'orario quello che ci piace questo sì abbiamo disciplina mangiarci la pizza ogni venerdì sto dando un esempio no abbiamo disciplina nell'andare a casa qualcuno e dire delle cose abbiamo però non abbiamo disciplina nell'onorare al signore e si perdono nello spirito si perdono delle benedizioni che stavano arrivando questi in questi giorni io mi stavo ricordando il famoso arone e maria che dovevano essere di supporto per mosè mosè parte al monte va a pregare a fare il lavoro il servizio deve ricevere la direzione a parte del signore per tutto il popolo le dice arone vado alla presenza io tu vai che io qua non trascuro niente ci penso io 40 giorni dopo arone invece di dire vengo pure io che è andato al monte a pregare dice no perché lì sarà successo a questo uomo dice che è salito chissà e il popolo viene di lui da lui e dite con come li mette pressione ditelo con forza fate con me così fate con me così col problema è col problema quando non ascolti dio ascolti a qualcun altro e quando quel qualcun altro che ti parla non viene da dio ti metti in problema arone ascoltò il popolo attenzione ascoltò maria attenzione non ascoltò il signore si fece un vitello perché era il metodo che lui aveva era il metodo che gli avevano insegnato dove nell'egitto adorare qualcosa datemi ora urgente facciamo qua un vitello e adoriamolo e arrivò Mosè e dice ma che cosa hai fatto vi ricordate no? che cosa facciamo quando siamo sotto pressione determina il seguito arone finì senza veste una veste spirituale che Dio le aveva dato alla discendenza sua i suoi figli morirono dite con me per un momento dite con me per una pressione adesso una persona che e sorridi non ti disperare non ti preoccupare che a nessuno ti toglie la veste di dietro giù la luce però è forte quello che stiamo parlando sì o no alla luce della scrittura i momenti di pressione possono determinare molte cose a volte ci sono delle chiese dei luoghi dove le persone si congregano però non risiede la presenza di Dio in quel luogo ci è toccato andare a me a Noemi a ministrare quando facevamo molto il ministero evangelistico dove entravamo nella chiesa e non era residente non risiedeva la presenza allo Spirito Santo però la fiacola che il Signore aveva messo nella nostra mano noi la portavamo la gente riceveva e diceva ah però è impressionante quando siete venuti voi ognuno di noi deve scrutare deve sapere se la persona che sta guidando la tua vita ti sta guidando e stiamo essendo chiaro con quello che sto dicendo perché c'è un arone che si mette di mezzo e che sta e questo è molto napolitano inguaiando tutto il popolo lo sta mettendo in un problema perché che dite con me non ha discernimento e non mantiene la posizione davanti alla pressione quanti diciamo amen e quanti di noi diciamo Signore io mantengo la posizione nei tempi di pressione amen lo dice la scrittura mi piace la musica mi la metto di nuovo fratelli scusate ecco qua superando il limite della pressione che cosa è una pressione scrivevo io è una situazione che colpisce la nostra vita in un momento inaspettato e che sembrarebbe che non che non c'è via di uscita ripeto è una situazione che colpisce la nostra vita in un momento inaspettato e che sembrarebbe che non c'è via di uscita una pressione Giovanni 11 21 Marta dunque disse a Gesù Signore se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto e anche adesso so che tu so che tutto quello che chiederai a Dio Dio te lo darà Marta che era la donna che si metteva davanti alla presenza di Gesù vi lo ricordate adesso lo richiameremo al versetto e che il Signore le dice sei troppo affannata o dite con me ai 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 dite con me ai 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 che facciamo nell'affano che facciamo nell'affano attenzione la casa del Signore deve rimanere immacolata quanti mi dicono a me? si deve tocare la casa del Signore non va toccata fuori alla casa del Signore quale motivo? perché il pastore lo dice no, è un consiglio che ti do perché quando tu tocchi cose sacre qui dentro con un doppio cuore quello che si rilascia della presenza del Signore è una chiusura non un'apertura spiritualmente molta gente ha preso la grazia la grazia la grazia la grazia e hanno detto no, per la grazia il Signore mi apre tutte le porte non finiscono bene le cose non finiscono bene le cose perché Cristo Gesù è la grazia a tutti gli effetti però noi siamo paragonati a Cristo Gesù per ricevere tempi di benedizione nella nostra vita quanti mi dicono amen perciò la Bibbia nasconde tutto nell'umiltà di cuore all'umile di cuore e al contritto di cuore non disprezierai tu o Dio non dice al santo dice all'umile di cuore al di cuore contritto e io ho spiegato in diversi momenti che la contrizione di cuore è un'azione tu non ti alzi al mattino contritto se no che tu devi contristare il tuo cuore cioè che cosa contristare arrivare a capire che ho commesso un errore e che sto perdendo la relazione con lo Spirito Santo quanti mi dicono amen Davide nello stesso Salmo 6 51-6 dove lui dice tu ami la verità che risiede nell'intimo dice al Signore nel versetto 11 non mi togliere il tuo santo spirito perché non gli dice non mi togliere il regno gli poteva dire il Signore mi hai dato il regno non mi svergognare che cosa diceva Saul invece Samuel vieni con me a offrire sacrifici non sia che il popolo pense male di me che gli interessava di più quello che la gente pensava di lui e non quello che Dio pensava di lui e ha perso tutto invece Davide aveva timore e lui diceva Signore a me quello che mi interesa è quello che tu pensi di me quanti mi dicono a me? Diti con me decisioni decisioni quello che tu pensi di me da me o di me? di me sto imparando fratelli Marta Marta era affanata perché quando Cristo Gesù viene un pochitino in Luca poi 10 41 e gli dice Luca 10 41 ma il Signore le rispose Marta Marta tu ti affani e sei agitata per molte cose ma una cosa era necessaria e Maria ha scelto la parte buona guardate capitolo 10 di Gesù sta preparando il cuore di Marta e di Maria alla morte di Lazzaro capitolo 11 Marta che era affanata nel capitolo 10 disperata mio fratello è morto la situazione è morta problemi morti problemi dappertutto perché? perché non era la presenza di Dio allora il Signore le dice a Marta tua sorella ha scelto la parte migliore perché io sono venuto a casa tua per dirti di non disperare perché tuo fratello deve morire tre giorni passerà lì dentro però sarà tutto per glorificare Cristo quanti mi dicono Amen a volte Dio permette che succedano cose per essere glorificato però l'affano l'appetito personale il desiderio personale disperde la benedizione di Dio nella mia vita che cosa fa una pressione nella nostra vita? porta il nostro stato di decisioni nell'ambito delle emozioni e non delle certezze che cosa fa una pressione? numero uno la pressione quando arriva arriva in un momento che io meno mi lo aspetto numero due che cosa produce una pressione quando arriva in un momento che meno mi lo aspetto invece di farmi scegliere di farmi prendere una decisione con certezze fondamentato su una verità mi fa prendere decisioni fondamentato sulle mie emozioni arrabbiato o gioioso qualsiasi sia questa mio padre mi insegnava e mi diceva mai prendere una decisione o troppo gioioso o arrabbiato rispira analizza fai passare due tre giorni e il momento in cui tu prenderai la decisione la decisione sarà davanti ai uomini e davanti a Dio quanti dicono Amen quindi Maria aveva scelto la parte migliore come il gadareno stava scegliendo cercando di scegliere la parte migliore dite con me devo scegliere la parte migliore molta gente molte persone nel periodo estivo inciampano perdono la fede ovviamente fa caldo è normale uno non si vuole muovere non si vuole alzare le scuse volano dappertutto ma normalmente fratelli pure io sento caldo sono arrivato da Taranto con Noemi mezz'ora fa siamo andati a casa abbiamo fatto una doccia abbiamo cambiato i bambini i bambini piangendo tutto l'altro abbiamo ministrato venerdì sabato oggi tutto il mattino con la famiglia pastorale a ministrare lì un bacione grandissimo a Sabrina e a Giuseppe che ci hanno accolto nella loro chiesa però abbiamo sentito di ritornare in chiesa io potevo dire già era tutto organizzato il pastore Antonio doveva ministrare i fratelli dovevano essere qui però ho sentito da parte del signore devi tornare e io avrei potuto dire no signore tutto organizzato dite con me ma quelli che sono guidati dallo spirito voleranno acquisteranno nuove forze io mi sento un toro fratelli non mi manca la forza per niente e mia moglie si sente più leggera alleluia e oggi abbiamo mangiato McDonald's un'aquila un'aquila davvero perché quelli che confidano nel Signore quelli che confidiamo nel Signore acquistano nuove forze non c'è pressione per quelli che confidiamo ma ubidiamo io dicevo Signore sto pregando per la crescita della Chiesa che io e il Signore mi ha detto fino adesso quello che ti ho non è successo e gli ho detto sì Signore allora stai calmo ti lo dico io come e quando ti lo dico io sereno mi dice il Signore va tutto bene sì va tutto bene sereno mi dice il Signore tu ubidisci me e andrà tutto bene di questo si tratta quando non confido nel Signore però disperdo forze perché le pressioni i fratelli si presentano in molti modi io non sono una persona diciamo proestiva io starei facendo in questo momento le avevo detto a Giuseppe dovevamo montare un palco durante tre mesi o no Giù dovevamo montare un palco con impianto audio gigante nella spiaggia durante tre mesi dovevamo fare tutte le riunioni sulla spiaggia quanti dicono amèn piacerebbe o no Eric ui alleluia mettiamo la tenda di campagna lì e la gente arriva tutta di notte a prendere il gelato o no le mura cadono sulla spiaggia stavamo guardando un palco con Giuseppe mentre ci buttavamo dai scivoli quelli facendo una competizione per vedere chi scendeva e non vi racconto qua il pastore Antonello come scendeva a velocità a velocità no a velocità sembrava che era uno che lo sparavano là sopra e scendeva però guardavamo questo grande palco uno scenario gigante che c'era in questo parco e io gli dicevo a Giuseppe mamma mia nell'estate mi piacerebbe un palco così e adorare al Signore all'aperto tipo quando sta calando il sole che già tutti hanno preso il gelato vengono nelle otto otto e mezza impianto d'audio wow quelli che ti tolgono i capelli che ti pettirano bellissimo forte potente posti duemila posti a sedere tremila quanti diciamo amèn perché le persone presentare qualcosa un vangelo wow e gli ho detto sì lo facciamo tu stai calmo prossimo state attendi un po' aspetta che se ne va il corona e arriviamo noi e io le dicevo a Giuseppe adesso l'unica cosa che manca è che il Signore ci metta le risorse per poterlo fare però già ci ha dato la visione quanti mi dicono amèn che meraviglia no non siamo in 300 nella comunità però dove c'è fede c'è potenza dove c'è fede c'è potenza andiamo avanti Gesù sempre nello spirito ci preparerà per superare le pressioni inaspettate della vita era venuto a casa e Marta e Maria lo aveva visitato li aveva visitati per poterli preparare a quello che stava per succedere in questi giorni io ho dato delle indicazioni a dei fratelli perché porte si devono aprire e gli ho detto ho ricevuto da parte del Signore questo 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 fate attenzione voi perché la benedizione non è mia è vostra però io come uomo spirituale come persona che prego e ricevo da parte del Signore ho dato delle istruzioni la benedizione è personale personale non posso fare nulla là dove la benedizione è tua ho imparato nella mia vita che le porte si possono aprire però le porte si possono anche chiudere e ho imparato che quando sono in un tempo di decisioni di decisioni molto importanti nella mia vita il silenzio la calma la pazienza perché io so che il diavolo verrà a togliermi la benedizione non so se rendo che voi pensate che lui dice ah oramai già il Signore le ha dato la benedizione non posso togliere nulla no fratelli no io ho imparato a mantenermi sul filo proprio così non ti muovere oh no amore li dicevano con me lo abbiamo imparato perché nei momenti di più benedizione della nostra vita più attacchi venivano più pressione veniva sulla nostra vita e io grazie al Signore nel percorso di vita cristiana ho imparato a discernere che quando c'è presenza di pressione è perché c'è presenza di benedizione fatti un sorriso wow che ti lo dà questo anni nel ring anni combattendo per una fede più salda più reale più genuina nella tua vita e te ne accorgi che quando sei sconfitto è perché hai confidato in te hai confidato nelle tue emozioni quanti dicono amen numero romani capitolo 14 versetto 17 perché il regno di Dio non consiste in vevanda né in vianda ma è giustizia pace e gioia dove dite come nello spirito allora i primi i primi due argomenti vianda e bevanda parlano della mia vita dice il regno dei cieli e l'apertolo paolo lascia in chiaro che cosa in che cosa non consiste invece di dire in che consiste soltanto dice non consiste in vianda o bevanda come dicendo in cose naturali quanti mi dicono amen però consiste nel riposare nell'avere pace nell'avere gioia nel vivere nella giustizia dite con me nello spirito santo ma quelli che sono guidati dite con me guidati dallo spirito sono chiamati figli di dio allora io devo imparare che quando io sono in un momento di pressione nella mia vita io sono in presenza di una grande benedizione nella mia vita quanti dicono amen quando sono in presenza di un momento di pressione io sono in presenza di una grande benedizione e mi devo mantenere nel filo mi devo stare tranquillo devo essere alla presenza come maria scusate non mi devo lasciare stravolgere nel momento dell'emozione devo dire signore tu stai aprendo la porta perché io sono stato fedele con te tu sarai fedele con me quanti diciamo amen numero 3 pressioni naturali o pressioni ricercati cioè sto dicendo ci sono pressioni che vengono in modo naturale e ci sono pressioni che noi ce li cerchiamo Giovanni il Battista nel carcere ad esempio Matteo 11 Giovanni avendo nella prigione udito parlare delle opere di Cristo mandò a dirgli per mezzo ai suoi discepoli sei tu colui che doveva venire o dobbiamo aspettare a un altro ci sono pressioni che arrivano alla nostra vita perché noi li cerchiamo Giovanni il Battista andò a parlare contro Erode quando Gesù non le aveva detto niente Gesù passò davanti a lui camminando e gli dicono i suoi discepoli a Giovanni chi è questo seguitelo gli dice è l'agnello che toglie il peccato del mondo però Giovanni non lo seguì dove finì parlando a Vampere si dice così a Vampere a uno Erode al quale il Signore non lo aveva inviato non era la sua segnazione non si doveva comportare così e per di più inizia a perdere la fede perde dite con me la certezza perde la certezza al punto tale di mandare a quei pochi discepoli che gli rimanevano era lui colui che doveva venire si perché lo stava domandando forse perché pensava Giovanni il Battista che Gesù avrebbe approvato una sua emozione che silenzio Gesù approva le mie emozioni dite con me no di alla persona che c'è al tuo fianco non ti preoccupare finisce bene finisce bene vi vedo spaventati dicendo oddio che cosa le ho detto a mia suogera tranquilli finisce bene stiamo soltanto investigando per quale motivo arrivano delle pressioni nella nostra vita che non erano programmate in questo caso la pressione io non credo che Giovanni il Battista doveva morire con la testa tagliata va da Gesù e gli dice Gesù raccontateli che cosa state vedendo forse Giovanni si aspettava che Gesù interpellasse dice qualcosa ma Gesù se ne andò perché Gesù non era un uomo mosso per emozioni se no per convinzioni quanti diciamo amen e una delle cose che il Signore mi sta parlando in questo periodo della mia vita è non mi l'acqua dolce o l'acqua salata lo parlavamo con l'inno e l'altro non lo mischiare e mi sento così non lo mischiare a me mi piacerebbe mettere nel caffè sale non lo mettere perché? perché lo perdi ah però nessuno se ne accorge al colore ma a me non gli daranno il primo sorbetto buttato tutto il caffè non so se rendo chiara l'idea famiglia anche a quelli che ci stanno seguendo a casa si può disperdere un momento o l'altro quando io non so guidarmi nei momenti di pressione il momento di pressione determina tutto per chi è metallurgico chi lavora o chi ha lavorato nell'ambiente metallurgico che quando un ferro si deve piegare quando si deve portare un materiale di tipo metallico a uno stato di torsione si deve attendere al momento giusto di pressione al momento giusto di calore per far sì che il materiale non si spezza quanti mi dicono amén dille alla persona che c'è al tuo fianco non disperare si deve arrivare al momento giusto di pressione al momento giusto di calore per poter piegare senza spaccare io sento la presenza del signore ad esempio parlando delle pressioni che arrivano alla nostra vita quando noi ce li cerchiamo diciamo a quei momenti dire delle cose in un momento che comportano comportano una causa un motivo contrario contro di noi senza valutare le conseguenze lo voglio spiegare così in questo ultimo periodo della mia vita il signore mi ha detto perché io ero nel nome di Gesù colerico sanguigno terminator e quindi dicevo tutto quello che mi veniva nella mente nel momento però il signore mi parla con tempo in serenità mi dice tu devi essere pronto a valutare se quello che verrà come contro risposta lo potrai sostenere non so se rendo chiara idea nella ragione una persona può dire tante cose però quello che viene contro di te dietro alla ragione lo potrai sostenere do un esempio problema familiare la persona non mettiamo la suogera qua perché tutti diranno povera suogera però la persona nella famiglia con la quale stai avendo un problema ha sbagliato però è una persona che crea conflitto non è una persona che cerca la pace non so se rendo chiara idea al di là di che la persona ha commesso l'errore ha commesso lo sbaglio tu devi sapere che quando tu la confronterai con la verità o lo confronterai con la verità non ti troverai con una porta aperta ma ti troverai con un problema più grande non so se rendo chiara l'idea allora uno deve essere saggio in quel momento e domandarsi serve che io confronto questa situazione ne vale la pena posso confrontare quello che verrà dietro mi posso fermare dietro cioè in poche parole scenderò io a compromessi litigherò come quella persona vuole litigare con me allora devo rimanere in silenzio a forza di che a volte l'orgoglio ti dice dove era la donna coraggiosa e valorosa il uomo coraggioso e valoroso il signore tu puoi dire ben conservato in Cristo Gesù quanti diciamo amèn Gesù era un uomo a tutti effetti io penso che come lui macho nessuno però però quando doveva restare in silenzio che faceva stava in silenzio quando non doveva muoversi non si muoveva gli dice a Pietro perché tu non sai che mio padre mi può inviare dodici legioni di angeli che tu la spada e pensi di potermi aiutare a me o riscattare a me Gesù poteva chiamare angeli sì però non lo chiamava perché non era nella volontà del padre quanti mi dicono amèn quindi stiamo parlando di come superare il momento di pressione con una vita spirituale cioè ottenere la ricompensa di superare quel momento il rischio di entrare in un dialogo in una conversazione e non avere il sufficiente coraggio per riconoscere l'errore e tornare indietro e questo crea che si apre un ciclo di distruzione nella vita attraverso le incertezze avete sentito? il rischio è che quando io non ho il coraggio di tornare indietro quindi riconoscere il mio errore apro dei cicli distruttivi nella mia vita che mi inviano a pensieri di incertezza cioè non riesco a coordinare la benedizione nella mia vita che devo fare in un tale momento? valutare se la persona che ho davanti è un saggio o è una persona stolta dice la scrittura che allo stolto non si lo deve correggere non si lo deve correggere per quale motivo? perché lo stolto alzerà terra nel tuo intorno polvera nel tuo intorno creerà diversivi e ti metterà te in un problema che la persona poi cercherà in un modo o in un altro di dire ah hai visto io sapevo che tu eri così che dice la scrittura? lascialo correggi il saggio e ti amerà quanti dicono amen facciamo un applauso a papà il nostro Dio perché lui è il nostro saggio ok queste sono pressioni ricercate abbiamo parlato di Giovanni abbiamo parlato di pressioni ricercate andiamo verso la conclusione con pressioni naturali che succede quando c'è una pressione naturale che è venuta io non me la sono cercata in atti capitolo 12 versetto 4 noi troviamo dopo averlo fatto arrestare a Pietro una pressione naturale Pietro non aveva fatto niente di sbagliato si era comportato benissimo lo mise in prigione affidandolo alla custodia di quattro picchetti di quattro soldati ciascuno perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua Pietro dunque era custodito nella prigione ma fervide prieghere a Dio erano fatte per lui e dalla Chiesa quanti dicono a me momenti di pressioni naturali si possono verificare perché non mi porta l'ansia ma mi porta alla prighiera momenti di pressione in Cristo quando il Signore non mi porta adesso io dico tutto quello che mi viene nella mente la pressione naturale quella che viene da parte del Signore che non viene dalla carne ti porterà a pregare il Signore non mi dice io mi metto nelle tue mani Signore toglimi questo fardello Signore togli quella persona che non venga davanti a me Signore che non si presenti davanti a me che questa non mi portare lì entri in uno spirito di preghiera non stai dicendo adesso quando lo vedrò gli dirò tutto in faccia quanti diciamo a me in famiglia mamma mia la nostra carne ha bisogno di imparare la giustizia al Regno dei Cieli e questo è meraviglioso nella notte perché precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato a due catene e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere ci sono pressioni ah scusate qui ci sono pressioni che però ci raggiungono senza noi lo cerchiamo come Pietro Pietro non era in un carcere perché stava vendendo bambini mi spiego sulla sulla piazza Pietro era in un carcere perché stava predicando la verità e uno deve imparare a riconoscere quando arriva quella pressione nella tua vita perché tu stai dicendo del bene da qua la scrittura dice nel mondo ci saranno tribolazioni nel mondo ci saranno momenti a chi arrivano quelle pressioni e quelle tribolazioni ai figli di Dio molto spesso a quelli che non vendono la verità a quelli che perseverano dice il libro di atti di romani perseverano nel fare il bene continuamente e arrivano queste pressioni senza che tu la cerchi la gente ti ostiga ti ostiga si dice ti ostiga ti instiga ti instiga alla alla discussione alle problematiche a questo però è lì dove il figlio di Dio deve dire no aspetta io farò preghiere io mi metterò nelle mani del padre mio così venivo io in macchina ero stanco situazioni che si creano continuamente però sapete fratelli ho imparato da quando la chiesa ai gruppi e tante richieste che ci arrivano di tutti i gruppi e delle altre chiese nei nostri intorni che appartengono alla missione e io le dicevo signore io riposo in te perché questa è casa tua dimmi tu che cosa fare quanti mi dicono a me se tu mi dici che io mi devo muovere io mi muovo se tu mi dici che io devo restare fermo io resto fermo perché casa tua è signore fin qua l'hai costruita te e non ho intenzioni di costruirla io al posto tuo quanti diciamo amén cose meravigliose succedono quando ci affidiamo a Cristo continuamente nella nostra vita io stavo ministrando qui e il signore mi diceva la chiesa è mia non è tua mi dice il signore quindi non ti la prendere mi dice perché io do e ricompenso o tolgo e corrego mettiti a parte come Pietro quando gli dice Anania e Safira perché avete insistito in mentire allo Spirito Santo no c'era Pietro che parlava con Anania e Safira e Anania e Safira che gli stanno dicendo no perché no abbiamo venduto intanto l'eredità e Pietro gli dice a me me lo sta dicendo no è con lui il problema parlate con lui per me una delle più grandi rivelazioni che posso avere nella mia vita perché io quando una persona viene contro di me gli dico come Davide tu vieni contro di me ma io vengo a te perché contro di te io non vengo combatti con lui ti lo lascio è tutto tuo Davide la sua vittoria vi ricordate lo abbiamo predicato l'altro giorno nella diretta Davide quando era nel deserto si comportava come un re elocuente parlare abile vi ricordate l'altro giorno abbiamo parlato nella diretta uomo valoroso di guerra bel aspetto il Signore era con lui però quando era nel palazzo e doveva andare a combattere contro Goliat si comportava pecorario tutto l'incontrario perché abbiamo imparato che non è essere per ottenere che non è ottenere per essere sino che è essere per ottenere quanti mi dicono amén e essere un figlio di Dio per ottenere la benedizione della mia vita quanti mi dicono amén non è che io ottengo la benedizione e adesso mi comporto da buon cristiano no io sono un buon cristiano mi comporto da figlio di Dio ubbidiente allo Spirito Santo e allora io ottengo la sua benedizione nella mia vita quanti possono dire amén amén lo voglio per me lo voglio per la mia casa lo voglio per la mia famiglia amén 2 Corinti capitolo 4 17 Chris puoi spegnere gli strumenti sono tutti spenti che sento un rumore sì sopra no sento un sicuro importante che sia tutto chiuso ok 2 Corinti capitolo 4 versetto 17 è scomparso giù eccolo qua dice infatti la nostra leggera afflizione che è solo per un momento produce in noi uno smisurato ed eccellente peso ed eterno di gloria che cosa produce la prova che viene da parte del Signore dice uno smisurato ed eccellente peso eterno di gloria quanti mi dicono amén quando la pressione proviene dal cielo mi porterà a uno stato di preghiera di relazione col Signore non di che io faccio qualcosa e che adesso ti faccio vedere io quello che no no mi mette in preghiera come stava la fede di Pietro all'interno di quel carcere era una fede deposta in Cristo Gesù pregava nel momento di pressione quanti mi dicono amén la conseguenza di che Pietro si aprono le porte perché voi sapete che viene un angelo del Signore lo fa camminare si aprono le porte eppur essendo che c'erano otto dodici soldati c'è quattro guardie due di ogni lato le catene nelle mani le catene nei piedi la situazione di pressione che lui non aveva cercato viene sconfitta davanti a un figlio di Dio che sa adorare sotto pressione quanti mi dicono amén sa adorare quando è sotto pressione prega adora intercede per quello che è nelle sue mani fa quello che è nel suo potere per pensi che qualcosa di sopranaturale lo possa liberare di quelle oppressioni quanti mi dicono amén a questo questo tipo di pressione la Bibbia la chiamava prove e arrivano alla nostra vita per portarci a un nuovo livello di relazione con Dio quanti mi dicono amén è la vostra fede che è più preziosa dell'oro dice la scrittura sarà provata la nostra fede viene provata quattro come identificare se la pressione è prova o conseguenza numero uno al di là del brutto momento sentiamo riposo nello spirito Pietro che cosa faceva nel carcere dice con me dormiva dice la scrittura che lui dormiva sì e sapete fratelli io l'ho sperimentato Pietro stava dormendo in mezzo a due soldati legato con due catene e le sentinele davanti alla porta lo custodivano nel carcere ma lui dormiva io l'ho sperimentato nella mia vita di avere wow nella mente un mare di problemi perché vedevo la problematica la pressione questo adesso viene mi dice una cosa crea un problema di qua la crea di là però ho imparato nel tempo a scrutare il mio cuore e a vedere se la pressione viene dalla mia mente o la pressione viene dal regno dei cieli e quando ho capito che la pressione veniva dal regno dei cieli perché la situazione in verità era una menzogna era una bugia la posso identificare perché sono menzogne sono bugie nel mio cuore io sentivo pace era inespiegabile gli dicevano a me sento pace il corpo fratelli accaldato febbre però nello spirito io sentivo pace stai sereno e nella volontà del padre quanti diciamo amen fratelli i discepoli attraversando il mare della Galilea in mezzo a una tempesta Gesù dormiva noi ricordiamo tutta questa storia impressionante come in mezzo alla tempesta Gesù li sta insegnando ai suoi discepoli non vi ho detto che voi mi dovete essere testimoni quanti dicono amen allora se tu non sei arrivato a quel livello di essermi testimoni non ti preoccupare perché questa prova passerà vai presentati approvato davanti al Signore come riposa numero due questo tipo di pressione ci porta a una relazione più intima di preghiera e non ci allontana di Dio la chiesa che faceva pregava non è che erano tutti dispersi corsa aah Pietro non hanno preso adesso ci prendono a noi Pietro non era disperato Dio mio perché mi hai lasciato perché mi hai abbandonato no Pietro pregava quando viene una pressione che viene da parte del cielo tu ti metti a pregare non ti metti a vedere come crei una strategia quando diciamo amen già l'abbiamo visto questo argomento numero 5 Pietro dunque era custodito nella prigione ma faceva fervientemente delle preghere senza sforzi maggiori la situazione cambia a nostro favore esvergognando il motivo della pressione dice che Erode o Pilato non so chi era che lo aveva messo a Pietro lì dentro non mi ricordo dice che lo aveva lasciato lì dentro per presentarlo al popolo il giorno della Pasqua l'obiettivo di Erode era disfare rovinare dite come rovinare una festa del cielo che rappresenta la Pasqua il giorno della liberazione quanti mi dicono amen rappresenta il riscatto la liberazione la redenzione l'introduzione in un nuovo tempo nella terra promessa e allora Erode falsamente aveva messo a Pietro nel carcere per distruggere un tempo un momento speciale nel popolo di Israele dice qua la rovino alla grande però quando c'è Dio di mezzo c'è un figlio che sa confidare nel Signore chi rovina i piani di questo mondo è Cristo Gesù quanti mi dicono amen chi rovina i piani di questo mondo è Cristo Gesù quando c'è un figlio che sa adorare che sa aspettare che sa attendere che sa essere paziente il cielo si apre e Gesù ha vissuto momenti di pressione quando era nel Gezzemani voi lo ricordate molto bene lui lo ha vissuto anche pressione versus decisione finisco con questo ultimo punto pressione versus decisione Gesù nell'orto di Gezzemani ci saranno momenti dove soltanto dovrai chiedere aiuto al Padre per poter superare quella pressione in ubbidienza questo vuole dire che alcune pressioni nella nostra vita sono lì non se ne andranno non sarà così come Pietro che pregò durante la notte e un angelo è venuto e lo ha tirato fuori e Gesù era nell'orto di Gezzemani stava pregando gli diceva al Padre se tu puoi fai passare a me questo calice ma non sia fatta pressione pressione la mia volontà ma sia fatta la tua e ha dovuto per forza purtroppo andare a quella croce perché a volte il Signore permette che cose succedano nella nostra vita per glorificare il suo nome quanti mi dicono a me e mi ricordavo a Giuseppe in un carcere venduto dai fratelli io non si domanda però Signore non mi sono comportato male perché lo stai permettendo però quando Giuseppe arrivò alla posizione di governo i suoi fratelli sono rimasti spaventati meravigliati di vedere che un uomo non si era piegato erano passati tredici anni dite con me di pressione tredici anni di pressione però non si è piegato Giuseppe e io posso posso pensare per un momento che forse i fratelli di Giuseppe avranno detto wow e si è mantenuto e Giuseppe le avrà raccontato no sono passato due anni in un carcere perché una donna ha voluto fare sesso con me ma io mi sono negato a forza di che ero uno schiavo lo potevo fare era un oggetto però ho rinunciato in mezzo alla pressione alla benedizione del Signore quanti mi dicono amen dite con me ho preso una decisione ho preso una decisione e mi sono mantenuto davanti a quella oppressione nella mia vita oppressione nella mia vita per ottenere la benedizione del Signore io ho passato molte pressioni nella mia vita e in molte di queste sono affondato si dice così ho affondato o sono affondato sono affondato come Pietro sempre ho trovato le braccia di Cristo Gesù che erano lì pronte a tirarmi su però non vuole dire che mi tirava su poi mi diceva vieni ti accompagno andiamo all'altro lato no 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 la prova che non approvi la devi passare di nuovo approvare di nuovo la prova che non approvi la devi approvare di nuovo e tornavo un'altra volta e un'altra volta affondavo fin quando ringrazio il Signore il mio Dio che Lui ha fatto un'opera nuova nel mio cuore mi ha imparato mi ha insegnato a rimanere in mezzo alla tempesta a confidare in Lui che da Lui proviene la mia benedizione che non sarà né colpa mia ma sarà colpa sua che io sia benedetto quanti diciamo a me finisco con questo beato l'uomo dice Giacomo 1.12 beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata perché dopo averla superata dopo essere stato approvato la Bibbia l'estensione diciamo riceverà riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che lo amano Giacomo 1.12 beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata riceverà la corona dobbiamo sapere che una volta finita la prova ci attende un grande tempo di vittoria quanti diciamo amè oggi il Signore ci ha amministrati questa parola e volevo finire con questo so che questo messaggio in un qualche senso ha confrontato a molti a casa perché abbiamo ricevuto delle notizie di famiglie di persone che nuovamente sono cadute nelle trappole di Satana stanno vivendo problemi fisici finanziari e uno oggi può guardare le scritture e dice wow sono caduto nella trappola e adesso che faccio pastore ti voglio dare una via di uscita oggi all'umile e contritto di cuore Dio non disprezzerà quanti mi dicono amè se tu riconosci se tu dici questa settimana il diavolo mi ha messo una trappola e io forse sono cascato in quella trappola io ti voglio invitare oggi a casa a fare una preghiera di contrizione a chiederle al Signore perdono a umiliare il tuo cuore al cuore contritto e umile non disprezzerai tu o Dio e quindi riconoscere te Signore non lo dovevo dire non lo dovevo fare Signore perché tu stai aprendo un tempo di benedizione credetemi in questo momento ho avuto una visione mi sono visto davanti all'altare del Signore con il sangue di Cristo nelle mani come se fosse un sacerdote che sto in questo momento offrendo un sacrificio al Signore per espiare il peccato però ognuno di voi come nell'antico patto oggi non lo facciamo però spiritualmente sì dovete mettere voi la mano sul capretto dovete mettere voi la mano affinché il peccato sia spiato dovete riconoscere voi Signore ho sbagliato perdonami non voglio questa settimana perdere la benedizione che tu hai determinato per me sentivo l'urgenza 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 di venire in comunità di predicare di dirgli alle persone ehi questa settimana è il mese ottavo quanti diciamo amen dite con me nuovo inizio nuovo inizio settimo perfezione otto nuovo inizio e l'otto qual era amore? ti ricordi? lo avevamo visto com'è? risurrezione ah patto nell'ottavo giorno si circoncidava oggi è 31 no? oggi è 2 agosto sono rimasto là nelle vacanze sono rimasto là mi sono fermato lì basta oggi è 2 agosto lotto patto risurrezione nuovo inizio e il Signore mi dice inizia il mese com'è? il nostro anniversario grazie amore non c'entra molto qui però però il Signore mi diceva c'è un nuovo inizio per coloro che oggi comprenderanno che al cuore contritto e umile Dio non disprezzerà quanti diciamo amen c'è un nuovo inizio e io so per rivelazione dello Spirito Santo che il Signore mi ha detto vengo con la mia ricompensa nel mese di agosto quanti vogliono essere ricompensati? eccolo qua mi lo ha detto lo Spirito Santo nel mese di agosto quando è un mese dove tutto si ferma io ricompenserò dice il Signore e il Signore